che prende velocità, perdono l'Arapato, BK e Pulisson alla chiusura, c'è lotta a tre per il comando viene scavalcato anche Poblet, please please me attaccata da Platitude e da Power Platitude insiste fuori del leader vediamo le scelte guidatori, Power si butta subito all'interno e va a rubare la posizione a Platitude che invece così perde qualche battuta e deve ripiegare in corda ma viene sfilata da tutto il treno interno il lancio in 16 secco, Platitude è rimasto di fuori va subito via invece il compagno di colori Pandemonium che sfida sui primi e vedremo anche le scelte guidatori perché Nico Montagna viene via con grande decisione e please please me deve riallungare sotto l'attacco del numero 7 operazione tranquilla di fronte, in 17 Pandemonium sembra poter passare, mette pressione al leader ma please please me con l'aiuto della curva vi rientra quasi completamente intanto nel fuori un parziale lottato per tutto il terzo paletto 15-1 che è una discreta velocità vista della giornata adesso Pandemonium si adega al largo di please please me poi la coppia con Power all'interno e Platitude in fuori quindi ancora in corda Poblet, frazione lenta in 16-4 è uscito a largo anche Pato BK al cui interno non c'è più nessuno si butta di dentro Plinioz ma Cristian Longo voleva prendere le curve forse con un po' di maggior agio intanto il gruppo si è completamente ricompattato al chilometro frazione in 16 secco è finita in ultima pariglia Pulisson che prova a venire via nella scia di Pato BK sono tutti per coppie al comando please please me attaccata da Pandemonium nella cui scia c'è il compagno di scuderia Platitude paletto in 15-4 Roberto Destro Junior porta in terza ruota Pulisson che sta recuperando però è una corsia severa quella affrontata a 350 dalla fine anche perché please please me allunga 14-6 di frazione è attaccata da Pandemonium cala please please me passa Pandemonium all'interno si butta Power poi viene anche Poblet che però non ha spazio galoppa Power in zona proibitissima 1-19-1 la media del vincitore al chilometro Pandemonium con Enrico Montagna per il training di Nicola Gastaldi i colori della studeria RT il secondo lo mantiene please please me probabilmente per il terzo in quota Poblet davanti a Platitude dell' Menschen a a Vampontà 16 16 16 16 16 Grazie a tutti.